Mi chiamo De Zorzi Fravio, sono nato il 26 giugno del 1987 a Feltre. Attualmente sono residente a Fonzaso, in provincia di Belluno. Sono padre di una bambina di nome Michela, che quest'anno compie 7 anni. Come professione sono artigiano, boscaiolo. Esego taglio, sbosco, commercio di legname, tutto quello che riguarda il legno e il mio settore. Due anni fa, dopo gravi problemi economici e familiari, mi è stata riscontrata la depressione. Portandomi a trovare delle cure, prima in ospedale e poi con me stesso. Le prime cure in ospedale, le medicine mi uccidevano. Un bel giorno mi sono svegliato e ho deciso di iniziare a lavorare da solo per guarire. Lavorare da solo, ma non lavorare economicamente, ma con la forza e con la mente per guarire. Per guarire, ho pensato a me stesso, che come ho sempre avuto passione a macinare chilometri, i chilometri mi danno tempo per pensare, per riflettere, per capire dove ho sbagliato, cosa, come devo comportarmi per guarire, ho deciso di iniziare a viaggiare. Viaggiare in auto, da solo. Per avere tutta la tranquillità e la solitudine per sfogarmi. Come autoveicolo, io sono proprietario di una Fiat Panda 1100 di cilindrata del 2002, pagata 500 euro, perché erano gli unici soldi che avevo in quel periodo per comprarmi una macchina. Come primo viaggio ho iniziato a attraversare l'Europa, ho attraversato sempre in solitaria la Scozia, l'Inghilterra, passando per Londra, Irlanda, tutti i paesi nordici, tutto inimmaginabile, la Francia, Parigi, Olanda, Amsterdam, Rotterdam, Germania, ho fatto tutte le città più grosse, Stoccarda, Nuremberg, Monaco, Ulm, Francoforte, Colonia, Nover, via dicendo, ho fatto un po' tutte. Però queste avventure alle persone piace, perché postando qualche foto, qualche filmato breve su Facebook, hanno iniziato a piacere. Dopo qualche avventura che ho fatto quest'inverno, nell'inverno scozzese, mezzo alla neve, al ghiaccio, al freddo, dormendo un po' ovunque dove arrivavo, in macchina per risparmiare, perché se soldi non ce ne sono e vuoi scoprire il mondo, devi adattarti al più possibile. Quando sono rientrato in Italia, le persone hanno iniziato a chiedermi come è andata, come non è andata, e piace proprio queste avventure. E quindi, mi sono messo in mente di fare un viaggio che forse, spero, piaccia alle persone. Un viaggio che si chiama Fonzaso-Tokio, partendo il 16 luglio, presso il piazzale della Fenadora di Fonzaso, per arrivare a Tokyo, tutto via terra, con una Fiat Panda, un viaggio in solitaria, attraversando l'Austria, Germania, Polonia, Lituania, Lettonia, per poi entrare in Russia. Passando per le città russe, Mosca, Kazan, Ufa, Ekaterinburg, Omsk, Nuovo Sibirsk, Irskursk, Lago Baikal, Ulaunde, Città, Skorovodino, Belogorsk, Tchabarovsk, per arrivare qui, dove sono attualmente, a Vladivostok. A Vladivostok sono qui, fermo, per aspettare il traghetto che arrivi dal Giappone, che carichi il mio autoveicolo per portarlo a Zakeminato, nella prefettura di Totori, dove da lì andrò a visitare Hiroshima, dove è stata sganciata la prima bomba nucleare, Enola Gay, e dove c'è un monumento, dove è rimasto in piedi l'unico edificio, in quel momento che è stata sganciata la bomba nucleare, per poi risalire verso la meta, passando per Kyoto, il Monte Fuji, e arrivando a Tokyo, che è il mio traguardo. Una volta giunto lì a Tokyo, se le autorità me lo permetteranno, mi andrò a vedere dall'esterno la centrale di Fukushima, dove nel marzo 2011, a causa di uno tsunami, c'è stato un incidente nucleare. Attualmente, la centrale nucleare, sembra che il reattore sia stato spento. Non vorrebbero esserci problemi. Questo viaggio è stato molto impegnativo per arrivare qui. La Siberia è molto tosta, più tosta di quello che pensavo. Più di 600 km al giorno sono riuscito a fare, a parte qualche tratto che ero obbligato perché non c'era nulla, tra una città e l'altra, mediamente ci sono 600 km, ma tra altre città, più a est che si va, verso l'estremo oriente, non trovi nulla. E quindi ho dovuto fare tappe di 1100 km, guidando anche 20 ore filate, ma mediamente qui in Siberia, se non guidi 15-16 ore di fila, non arrivi da nessuna parte. Ho attraversato strade molto impegnative, strade, tra virgolette, perché erano piste, piene di buche, pieni di problemi, dove i distributori di benzina non c'erano. Ho dovuto portare con me delle tanniche di benzina per rifornirmi. Ho dovuto portarmi, oltre alla benzina, anche i viveri, acqua, mangiare, un po' di tutto, perché qui da una città all'altra non c'è nulla. Questo viaggio che sto facendo è il viaggio più lungo che si possa fare sulla Terra partendo dall'Italia. Molto impegnativo, molto impegnativo economicamente. Mi è stato dato un aiuto da parte di tutti gli amici. Mi hanno sponsorizzato chi 50, chi 100, chi 200, chi 300, chi 500. sono arrivato alla cifra pari all'80% delle spese del viaggio. In questo viaggio sto facendo dei filmati, delle fotografie, a modo che da casa un giorno potrete vedere le mie avventure, dove sto documentando il massimo possibile. Grazie a tutti.